Ho atteso diversi giorni prima di intervenire sulla delicatissima vicenda perché mi sarei aspettato che, a fronte del caos rifiuti, venisse indicata una strategia per superare definitivamente un'emergenza, che a questo punto è solo rinviata e rischia di farci diventare una seconda terra dei fuochi. Così il deputato nazionale Nino Minardo interviene sulla questione rifiuti in Sicilia. Il tutto, aggiunge, si sta affrontando con soluzioni alla Carlona, frutto dell'inabilità a programmare qualcosa di serio. Risultato, città invase dalla spazzatura in piena estate e in piena stagione turistica, con danni notevoli alla nostra economia e con seri rischi per la salute pubblica. Le soluzioni attualmente messe in atto non risolvono il problema, aggiunge il deputato nazionale. Oltre ai provvedimenti per uscire da questa emergenza, bisogna immediatamente trovare la strada per risolvere, in via definitiva, il problema rifiuti in Sicilia. La soluzione del momento, ovvero la raccolta differenziata, è una soluzione tampone destinata a creare una nuova emergenza, visto che comunque non ci sono gli impianti per trattarla. Occorre attivarsi per l'installazione degli impianti di smaltimento per ricavare energia dal rifiuto, ovvero i termovalorizzatori. In Sicilia ne basterebbero tre, che servirebbero non solo per smaltire rifiuti indifferenziati, ma anche gli scarti provenienti dal trattamento della differenziata, che inevitabilmente vengono prodotti. Quello che sta attraversando in questi giorni la Sicilia, dichiara ancora Minardo, è la conferma di un'esperienza governativa disastrosa, che agisce senza alcuna programmazione. Si affronti seriamente le emergenze e contemporaneamente, conclude, si agisca subito per predisporre un piano per i rifiuti sensato, con sostegno e risorse, rivolte all'impiantistica per il loro trattamento e smaltimento.